2. SCATOLE APERTE Fin da ragazzo non riuscivo a guardare un albero di Natale se non di sfuggita, con timidezza. Forse perché i ricordi di chi durante l'infanzia ha sofferto rimangono scatole aperte. Eppure in collegio avevo il giardino dove correvo assieme alle foglie che ballavano in circolo e la frenesia delle formiche sulla corteccia. Ma già mi accorgevo che mi mancava qualcosa. Era la mia famiglia. Commento Spesso la scienza attribuisce a un'infanzia infelice il modo di essere adulto. Ma se un'infanzia infelice fosse invece il prodotto di una nostra creazione percezione, cioè di una nostra necessità evolutiva? Per alcuni maestri immateriali, infatti, la famiglia in cui nasciamo è una raccolta di codici affini. Cioè i nostri genitori e i nostri fratelli hanno in comune con noi delle norme vibratorie, delle caratteristiche evolutive che i maestri chiamano codici. Sono quindi i nostri codici e non il destino avverso o il caso che ci privano di una famiglia.